Quali scottature può provocare il sole? Il dermatologo Santo Raffaele Mercuri spiega quali sono le più comune e come comportarsi di conseguenza. Scottarsi la pelle sotto il sole è facile, soprattutto se si ha un fototipo chiaro. Dietro una bruciatura, però, ci sta quasi sempre un comportamento scorretto, ovvero il non utilizzo, o l'utilizzo sbagliato, della crema solare, scopri quella più adatta a te. La protezione della pelle dai raggi nocivi del sole è una regola da seguire a tutte le età, ma ancora di più nei bambini e adolescenti. Le scottature solari in età pediatrica aumentano il numero dei nevi e il rischio di sviluppare melanoma in età adulta, perché la pelle ha una sua memoria. Le scottature solari, l'esperto Santo Raffaele Mercuri, primario di dermatologia IRCS Ospedale San Raffaele di Milano, nella videointervista spiega quali sono le scottature più comuni che si possono prendere sotto il sole e in che modo ci si deve comportare nei giorni successivi.